Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che c'è? Ma che c'è qua di coglione che sto a fare? C'è qua di coglioni! Anche quando sto sul letto rompi coglione! Eh no, è il lupo! Ma che è il lupo? Vattane! Era il lupo! C'è il lupo e la peguara! Ma buongiorno! Eh buongiorno sta cazzo! Vattane! Ma quando sto al tuo letto rompi coglione! Ma c'era il lupone! C'è il lupo e la peguara! Noi ma ti dico io! Mannaggia! No! No! Questo è VAR! Questo è VAR! Oh no! Sì! Con tutti dietro presenti! Facciamo qualcosa insieme stamattina! Eh? Facciamo qualcosa insieme! Sì sì! Facciamo qualcosa insieme! Sì sì! Ma peguara! No! Vattene! Ma dove andà? Dove andà? Vaffanculo! Oh! Parte subito la giornata così al top! Le calze Nonna Maria! Eh! Le treppe tutte! Le treppe tutte! Le tre! Allora! Ma che urle! Eh! Ma le tire! Le tire! Ma adesso te le voglio mettere alla CR7! Sì! CR7 Nonna Maria! Alzete! Alzete! Ah! Prova a fare il doppio passo! Doppio passo! Elastico! 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 La CR7 Nonna Maria! Che bella piccola! Bella! La nonna più bella del mondo! Eh certo! Ma io ho un nipote più bravo che non ce l'ha nessuno! Oh! Allora! È certo! Grazie! Grazie mille! Maria Donna! Guarda che capelletto! Sì! Ah o no? Sto lavando la macchinetta! Levela di qui! Levela di qui! Levela di qui! Levela di qui! Sai che te la donta la testa! Ma perché? Oh! No! Guarda! Ma sei scemo! Allora te levi di co*****e! E ora ti mangiare se mi sta fatto la cosa! Davvero! Con tutti questi peli! Fattene! E va! E va! Guarda quanto è cattivo! Lì è qualcosa! Ma che ti fa? Dimmi che ti fa? Ma dire almeno dei bracci! Ah! Ah! Tutto sto pelo eh! Eh! E non la marina! È un pelaio! È un pelaio! Quanto sei bella questo cerchietto! Guarda! Ah! Guarda che bello! Ah! Dai là che rimangiamo! Che hai fatto? Perché questo fa ride! Che fa ride! Come mai le hai messi sopra la stufa? Perché c'ha da asciugare! Ma qui al fondo no? Ma che è buono! Qui ho il pombo asciugare la macchinetta questa! E c'ho la stufa al metto di qui! Si asciuga! Perché se no si arruggenisce! Che che? Qui sono gli insegnamenti dei nonni ragazzi! Fermate! Ho già toccato lì! Che ti do papà vero già! Papà vero! No! Vabbè! Vabbè! No! Vabbè! Sta pieno! Sta pieno di sorca! No! Si! No! Si! No! Si! No! 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 Vabbè! No! Vabbè! No! È pieno! Ma quanto ci divertiamo a noi fondamentalmente! Ci divertiamo! Dile verità! Oh! Scialamo! Ci divertiamo ragazzi! Perché è bello così! Vabbè! Ma comunque sta pieno davvero eh! Sta pieno di figa! Guarda! No! Ma che scherzo eh! Il gioco! Numero 7! Ah! Ma che è stronto! Ma che è tanto fai! Ma perché? Ma che cazzo fai! Ma è il numero 7 là! Ma quel 7! 7! E 17! Lasciala! Ma si! Tu sai 7 volte stronzo! 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 No! Vabbè! Questo è troppo veramente! Sette volte! Vabbè! Sta a litigare! Buttala via! Ma perché stai? Non mangi! E poi di Siria oggi! Non ci puoi mangiare! Ah! Ma che ti vuoi mangiare? Ma la canna niente! Sempre gli avanzi! Ma proprio! Ma non ti coglioni! No! Ma questi avanzi! Ma eh! Gli avanzi proprio! E come no! E quel che ci avanza! Ma io stai niente! Che mi frega! C'è la mia metà alto! Va! Ma allora non vuoi fare per cosa? Non mi frega niente! Adesso segnalo tu perché mangiare! Sparecchia! Oh no! Sta bene! Non mangiare! Manca parecchio! Sta bene! Dai dai! Non mi frega niente! Non manca parecchio! Sparecchia! Allora via! Sparecchia! Ma su qua ti mangiare gli avanzi! Beh raga! Questo è in cinema! Cioè in cinema! Cioè ogni vuoi! Ma poi! Perché io me ne perdo tante durante il giorno! Ma questo è in cinema! Cioè! Fuori caso ti devo scrivere cinema! Proprio! Coccodrilli! Comunicazione importante! Penso che in settimana uscirà il video del prosciutto su YouTube! Continuate a iscrivervi! Fate swipe up! E poi! Questo fine settimana non ce la faccio! La prossima settimana ho già in mente ben due video! Spero di poterne realizzare almeno uno! Per i 500k! Sono due video fortissimi! Cioè! Beh! Già mi viene da ridere raga! Non ce la posso fa! Voglio fa divertì! Perché poi c'è uno scherzo! Uno per la nonna! E uno per il nonno! Ma! Vabbè! Non ve sto a di niente! Perché proprio! Bene così! Ragazzi! Qui dentro! Lavora a duemila! Lavora a duemila! Perché mi piace! Vi divertire! E! Cercare di trasmettervi! Anche qualcosa! Perché! È giusto così! È bello così! È ora! È ora! Dei fare che! Da mangiare! E poi! E dopo vado a duemila! Questa è casa mia! Questo è il mio mondo! Ci vorrebbero le telecamere fisse! Ci vorrebbe! Non lo so! Comunque! Dai! Qua dentro c'è stata! Tanta carica! E spero di tramandarla anche a voi! Metticene un po' di parmigiano! Fermete! Ma perché? Ma perché? Col tono ci mette il parmigiano! E perché? Ma non ci vuoi! Metticene un po'! Vattene! Ma è buono! Il parmigiano! Vattene! Il parmigiano! Il parmigiano! Il parmigiano! Il parmigiano! Il parmigiano! Il parmigiano! Ma non è sgolato! No! Ah! Ah! Guardate! Guarda! Guarda! Guarda come r***a! Mi ha dato un morso! Ah! Guarda quanto è soddisfatto! Guardate! Ah! 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 Quanto sei! Mamma! Arzuga! Attenzione! E' arrivato! Andreone! Carico! Carico! Vi vede? Si! Passo! E' arrivato! Quindi... Ti sei auto invitata a pranzo! Quindi ti sei auto invitata a pranzo! Così! Attenzione perché... C'è una tazza per Andreone! Ti piace? Bello! Sei contento? Con la tazza nuova! Vai! Da grande! Dormimo! 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 Tazzo! 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 Foto del Cardinal Faustino firmate e gira! Autografate dal nonno! Fate swipe up e potrete partecipare anche al contest dove vi taggeremo in una storia! Video saluto! Vero? Certo! Un po' di prosciutto Andre! Si! Te lo voglio tagliare io! Si si! No! Che fa tutte le scalette! Il vuole? Si si! Quelle scalette! Che fa tutte le scalette! Beh! No! Il taglio io! Tranquillo! Si! Guarda che bistecca! Che è? Guarda che è? È fatta la bistecca! Non ne è fatta! Come si mangia? Tazzo! 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 E tu? Eh? Si! E che è una carne che chiara! Fai le vedere le mie no? Dove stanno le mie? Dai! Era bellissimo io! Bellissimo! Bellissimo! Stai a mangiare? Si! Mangiato bene? Si si! È vero di qui si mangia bene si spende poco! Si! Ci vedremo eh! È bello! Quanto è bello! Si! 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 Ah! Vai! Muovite! 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 Mi piace! Ho fatto anche piano! Nel tampone è negativo! Ho fatto il tampone perché ragazzi domani è una collaborazione su una struttura e chiaramente bisogna andarci negativi! Ho detto una cosa molto importante che quest'oggi è il compleanno della mia mamma e la mia spendina mamma questa mattina non c'era quindi ora torno a casa ho organizzato una cosina mangeremo insieme tutti in famiglia e niente ci vediamo tra poco! Il compleanno della mamma eccola qua vai leggi il bigliettino! Anche se ogni tanto provi un po' di Dio che fastidio noi siamo sempre qui e ci rimarremo sempre! Grazie per tutto il cuore che ci dimostri sempre oggi siamo noi ad esprimere tutto il nostro affetto per te buon compleanno mamma Chiara e Federico! Adesso andiamo sotto che arriverà una sorpresa! Guardate chi è arrivato! Francesco direttamente da Marotta e Garagol ci ha portato il pesce anche questa sera! Ciao a tutti! Grande Franci! Che ci sarai di qui dentro? Eh cose buone! Eh ma lo so! Cerciamo di portarvi un po' di felicità in questo periodo un po' così! Vai vai Franci pronti! E soprattutto tanta roba buona! Ah che ne sei da me! Vuoi aiuta? C'è anche la Selene che l'aiuta! Eh adesso ve lo prendo io eh! Oltre che del grandissimo ottimo pesce! Professionale! 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 Oltre che del grandissimo ottimo pesce! Professionale! 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 ami guardate! Il Caragol! Guardate la roba poi me la farà vedere! Tu non lo hai portato? Ti farà vedere meglio! Ma mamma mia guardate che spettacolo! Era buono il sugo? Ti è piaciuto? Gratinate sono sui miei commenti! Perché ormai è l'ora dei Caragoi! Non so se li conoscete? Vai! E vai i Caragoi al top! Caragoi e la Marottesi! Vai vai grazie Francesco! Grazie Francesco! Vai! Guardate quanto ben di Dio Guardate Guardate che lavoro Guardate Ristorante Galagol Fine settimana arriva anche a Perugia Quindi ragazzi contattateli su Instagram Che si fa? Fammi capire Ma così si mette Ma che si fa? Non si mette così Non si mette così Non si mette Si mette intorno al collo Si mette intorno Si mette intorno al collo Come ride Mettici la corda intorno al collo Vieni come si mette così Vieni qua Guardate aspetta No stai a mangiare Aspetta un pochino Guarda come stai a mangiare Guarda come stai a mangiare Ma questo Gambero con salsa rosa Rosina Rosetta Che dieta è? Questa è la dieta Che io mi fai Cazze miele E poi? E tutte le volte che sto a mangiare Mi sentite che dieta fa Io la dieta L'acqua Ma perché? Io mangio E dopo? E mangio E poi? E poi mangio E dopo? E dopo No Ma perché? Ma come perché? Balla 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 Dalla E bene Dalla E Aguri 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 o no? Ma mia Che tu hai parato Aguri Mossa Che fai, arzuche Carzuche No, arzuche Arzuche Guardate quest'uomo Guardate quest'uomo Guardate quest'uomo Con che impe... Che ti trema il braccio Che ti trema Eh, smettono, addio Rosario Ma Tu che fai la corona? Hai detto Rosario Finale che fai C'ha ragione, no? Non c'ha ragione Non c'ha ragione o no? La pulitura del dito È fondamentale con la leccata Proprio fondamentale Raga, ma anche i vostri nonni fanno così Io mi chiedo sta cosa Era tutto il resto Ma mangia come un drago Ma è vero? Se mangia troppo Guarda, si affoga Ma è vero? Ma è vero? Ma è vero? Questo è il vino ragazzi Questo è me che mi chiamo Ti chiamo In Grecia come fanno Oh In Grecia Eh, fanno così Ma... Ma sei scemo Ma in Grecia Non c'è In Grecia fanno così No Scemo 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 Ma in Grecia Guarda che cazzo fanno Ma in Grecia fanno così Ma che è in Grecia Sono scemo come te Ma che è? In Grecia Ma vaffanculo E strapparia tutti i capelli Ma... Aspetta cosa fa A fare un figlio così stupido Scemo Si fai lì Scemo Via via Tu butta per terra Ma è normale? Queste cose non si fanno Scemo È normale? Ma è brava Basta Scemo 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 Con la bandiera dietro Scemo Ma perché? Perché sì Scemo 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 Oh bello di Roma Vede che Che tembriache stasera Dopo dici che beve Che lampadine Dopo dici so Arteo Sì In te l'orecchie Ciao Rosetta Auguri Ciao Com'è o no? Com'è o no? Com'è? Qual è che più vuole? Capirei Non si trova Come si trova? Non c'è per una È perché io do troppo all'inizio Quindi mi mandano a cagare Che è sto cane? Eh? Che è sto cane? È un figlio di una mignotta Che aprono Che aprono Che aprono Non mi è lì così Che aprono Che aprono Che aprono Che aprono Grazie.